e sono tre. Per il terzo meeting di fila, il Federal Open Market Committee, FOMC, ha deciso di non toccare i tassi. La commissione della Federal Reserve specializzata nella politica monetaria mantiene così il rein tra il 2,25% e il 2,50% dopo avere alzato i tassi dello 0,25% a dicembre 2018. Le ragioni di questa scelta, in controtendenza rispetto alla richiesta di Trump di tagliare i tassi, sono diverse, secondo il governatore della Fed Jerome Powell il mercato del lavoro è solido, l'attività economica ha registrato una crescita decisa, l'inflazione viaggia a un buon livello, se escludiamo alimenti ed energia. In futuro ovviamente si vedrà, ma sembra che il FOMC non voglia ritoccare i tassi nel breve periodo. Una politica dei tassi appropriata a questo momento le cose non vanno poi così male negli Stati Uniti, anche se la spesa delle famiglie e delle imprese si è contratta, ma serve ancora un po' di pazienza prima di fare ulteriori mosse in tema di politica monetaria, in modo da avere un quadro completo degli sviluppi del contesto economico. Il Comitato continua a considerare l'espansione sostenuta dell'attività economica, le forti condizioni del mercato del lavoro e l'inflazione vicino all'obiettivo del 2% come risultati più probabili ha spiegato Powell nel suo intervento, aggiungendo che l'inflazione tornerà al 2% nel tempo e quindi in linea col nostro obiettivo. I rischi a livello globale si sono attenuati, i dati recenti dalla Cina e dall'Europa sono migliorati. Certo, Powell ha ammesso che l'inflazione in questo momento è un po' al di sotto dell'obiettivo, ma l'economia degli Stati Uniti è sostenuta da solidi fondamentali, per il resto del 2019 è prevista una sana crescita del PIL. Inutile il tentativo di Trump di fare abbassare i tassi quando gli è stato chiesto delle pressioni da parte del presidente USA, Powell è stato molto deciso e ha rivendicato l'indipendenza della Fed, non pensiamo alle considerazioni politiche del momento nel nostro lavoro, anche perché l'inflazione più debole nel primo trimestre è solo transitoria, e l'attuale politica è appropriata, il dollaro è in rialzo di 60 punti rispetto all'euro. Eppure Trump, il giorno prima del meeting, aveva provato a mettere pressione alla Fed con un tweet, la Cina sta dando molti stimoli alla propria economia mantenendo al tempo stesso tassi bassi. La nostra Fed ha continuato ad alzare i tassi anche se l'inflazione era molto bassa, avviando una grossa stretta quantitativa. Avremmo il potenziale per schizzare in alto se, come primo punto, abbassassimo i tassi e se avviassimo una forma di quantitative easing. Certo, il PIL al 3,2% è positivo, ma con la nostra bellissima bassa inflazione potremmo stabilire una record e, al tempo stesso, iniziare a far sembrare insignificante il nostro debito pubblico. Punto un consiglio presidenziale rimasto inascoltato, la Fed non si è fatta influenzare. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Roodoo Fortniedergrenod, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.pict nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative.